ciao a tutti e benvenuti in un nuovo retro gaming di final fantasy 1 quello che faremo oggi c'è abbastanza roba da fare comunque oggi e allora quello che dobbiamo fare oggi sono alcuni acquisti anche se questo di qua si leva no vabbè noi dobbiamo passare da lì oh finalmente che cavolo allora noi dobbiamo scendere comunque a quanto ho portato capito non manca molto quindi pochi video e concludiamo il gioco dobbiamo andare da qui in questo deserto entri a questo dovrebbe essere uno sì esattamente quello che c'è qui dobbiamo comprare tutto quanto ok abbiamo finito qui adesso dobbiamo tornare alla nave che la nave non so se di qua si potrà raggiungere però no mi sa di no ah in questa occasione mi devo aiutare purtroppo con un video perché diciamo che dobbiamo fare un certo viaggio ora ok 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 Cavolo, me l'ha avvenenato! Devo curare, aspettate un attimo, ah ne abbiamo abbastanza, ok, allora adesso dobbiamo andare, ok, qua non lo capisco, aspettate un attimo, ma io qua non la vedo, dobbiamo andare a Gaia noi, però qui non lo vedo, non lo trovo, ok, forse così non la trovo, vediamo! No, non me lo trovo qua! Eh, datemi un attimo, vediamo se qua mette una posizione perché è un problema! Ok, Gaia sarebbe qui! Abbiamo un po' da volare comunque! Ok! Quasi arrivate! Sì, sì siamo arrivati, ecco! Perfetto! Ok, adesso prima c'è una cosa, vediamo se qui c'è qualcosa di armatura buona, perché qui dobbiamo fare alcune cosette ora, allora qua vediamo cosa c'è, ah la difesa però migliora e ne compriamo una dai! L'acqua paggiamo! Ma anche se ne che non fa tanto veramente! Boh, non lo so! Oh, lui può migliorare! L'indole li mettono in ordine per migliorarmi oppure no! Ok, vediamo qui se c'è qualche arma migliore! Nulla, possiamo andare allora! Pozioni penso che non me ne servono comunque! Gran pozione? Sì, ne abbiamo abbastanza, ok! Però aspetta un attimo! Eh, ma queste 105... Aspettate un attimo! No, non serve! No, apposta, ne abbiamo abbastanza, ok! Allora, adesso dobbiamo trovare un lago dove questa fata mi darà qualcosa! Questo video sarà forse un po' più breve perché già stiamo concludendo veramente! Ok, da questa parte dovrebbe essere il posto! No, ho sbagliato! Ho sbagliato! Allora, dobbiamo salire! Ok, qua sopra deve essere allora! Cioè... No, mi sento che no neanche! No, no, forse sì! Dobbiamo salire di qua! Spero! Sì, sì, sì! È molto grande come posso, questo è sicuro! E adesso, se non sbagliamo, dobbiamo andare qua! E ci dovrebbe essere un lago! Anzi, non sarebbe perché abbiamo anche un dungeon da fare se ce la facciamo! Eh, dobbiamo salire, mi sa se... Perfetto! Adesso torna di nuovo la città di prima! Perchè è rimasto qua? Ok, è rimasto... Perchè non cambiava tanto, quindi... Ok, adesso abbiamo un po' da viaggiare! Tutto a sinistra! Vediamo ora! Un altro poco! In giù! Ok, qua c'è la città! E... Vediamo se possiamo atterrare qua stavolta! Perfetto, sì, siamo più vicini! Ok, adesso dobbiamo tornare di nuovo al porto... e parlare con quella del barile! E abbiamo sbagliato strada! che in realtà questa è una serena! E abbiamo sbagliato strada! E abbiamo sbagliato strada! E adesso avremo un altro dungeon! Ok! Qui vedremo assolutamente un bel po' di timbrock! Non c'è nulla! Dobbiamo andare dritto! E qui! Controlliamo... Gli angoli! Se non sbaglio comunque in tutto, qua ci sono circa quattro piani! Quindi... Capite bene che perderemo tempo! Perfetto! Di qua vediamo... Di qua vediamo... Un'altra porta... nulla! P... 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 o... P.. Si continua a salire da qui. Allora, là c'è la scala per andare al secondo piano, quindi sappiamo dove dobbiamo prendere per proseguire. Qua c'è un'altra porta. Nulla. Oh no, aspettate un attimo. Non è collegato vero? No, ora mi compa qualche mostro sicuro. No, no. Qui non ci sono porte? No. Andiamo dall'altra parte. Si, qua c'è una porta e probabilmente non c'è neanche nulla. qui c'è un'altra scala però. Ok, forse ci sono due strade. O ci sono due strade o ci sono due modi per salire o scendere perché in teoria è strana. qua c'è un'altra porta e un'altra cassa. qui c'è un'altra cassa. di qua non c'è nulla. Mi sa che dobbiamo salire sia se abbiamo finito il piano piano. di qua non c'è nulla. qui c'è nulla. Allora, di qua vediamo. Allora, questi so che sono abbastanza forti. controlliamo qui. Oh, cavolo. Cassa, non mi fanno attaccare o? quando siamo arrivati occhi a 18 minuti, no mi fanno attaccare o? allora. Romano. Allora, un punto. Se qui c'è abbastanza roba Avete visto appena mi colpiscono Fanno abbastanza danno questo E non aspettavo io che c'era qualcosa qua Se questa porta contiene qualcosa oppure no Contiene qualcosa E l'armatura indiamante forse è abbastanza forte Vediamo Eh no mi sa di no perché No perché sennò mi comparirebbe qua Niente asciamo pad E saliamo ancora di livello Controlliamo da qui Alla prossima Grazie a tutti. 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 Ok, forse qui non dovrebbe attaccarci perché ci sono le sirene e tante casse da guardare qua, quindi vi pare che abbiamo finito il dungeon comunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. No, dobbiamo scendere. No, dobbiamo scendere. qui, quindi, guardate. Ok, abbiamo questo piano qua sotto. No, dobbiamo... No, dobbiamo... No, dobbiamo... Ok, abbiamo finito qui. Ok, abbiamo finito qui. Ok, quando siamo arrivati. Ok, quando siamo arrivati? No, dobbiamo... 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 perché a sinistra c'è un'altra scala stranamente e può essere pure che scende invece di salire cioè dalla guida non ho visto che c'erano due strade cioè prendeva mi pare adesso a sinistra non mi ricordo bene ma comunque finivamo dove siamo finiti comunque no scenda allora qui non ci siamo stati no no e controlliamo questa zona all'orange vediamo cosa troviamo qui perché sanamente un'altra scala ma dove siamo ok non so dove siamo sicuramente quello non c'è andato in questi posti ma io li controlliamo qui non c'è nulla però c'è un'altra scala ancora anche altre casse un'altra porta e un'altra scala strano seriamente non so dove stiamo finendo c'è qui un laberinto ora è un'altra scala che cosa faccio basta ma che cavolo è 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 no seriamente ma dove siamo ragazzi io devo trovare l'uscita perché non è possibile cioè troviamo ogni minuto i nemici non è possibile in ogni stanza poi e qua dove siamo seriamente ci siamo veramente persi speramente che non prendevo quella scala cioè non ci sono più scale non c'è niente e ho anche una bruttissima notizia cosa? ok quello non l'ha portato perché abbiamo il boss qua però no ma io lo sfido anche se quello non l'ha portato io lo sfido sperando di farcela anche se ho le battite del joypad scariche speriamo che il joypad non si scarica manco le vite sono abbastanza mi sa che ci moriamo qua ho un dottor presentimento cavolo non si è fatto nulla con i primi attacchi è morto oppure no ce l'abbiamo fatta invece è morto è morto strano però non capisco come me quello non l'ha portato ce l'avevamo a due passi il mostro ma vabbè ma niente rispetto a quello che ho guardato la guida ci siamo portati avanti secondo me abbiamo l'ultimo che si stava da fare quindi rispetto a quello che best всi rispetto a uno rispetto a uno ok direi che possiamo concludere qui per oggi saldiamo e niente come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e continuate a seguire la serie siamo quasi agli sgoccioli perché manca l'ultimo cristallo non lo so se è quello nella guida che ho guardato sconfiggeva questo perché estremamente non l'ha portato subito e l'aveva a due passi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e continuate a seguire la serie per questo video è tutto e non ci vediamo alla prossima ciao